La giornata inutile termina su due note di umorismo. La prima è che ho ricevuto un testo destinato a scalzare il tramonto dell'Euro, il complesso di Orfeo e anche per quel che vale i quaderni di Malte e Lauritz Brighi o i racconti di Buzzati, insomma, destinato a scalzare tutti gli altri, per farla semplice, dalle mie letture serali e il testo fantasma, quello del ministro Speranza, di cui non mi sovviene onestamente il titolo perché quando ero giovane io non era nei libri di letteratura italiana, ma peraltro l'ho anche dimenticato in ufficio, speriamo che non venga nottetempo espugnato all'ufficio per distruggere dai servizi segreti, per distruggere anche questa ultima preziosa copia, non me lo perdonerei mai, anzi quasi qua stesso, torno indietro perché... e dedicheremo a questo testo dei momenti di relax, nella pausa che per noi a questo punto finalmente minimamente inizia, sarà una pausa che dedicheremo a incontri, ma perlomeno non staremo in aula ad assistere allo spettacolo pietoso di una maggioranza che si sfalda. La seconda nota umoristica viene dallo sfaldamento della maggioranza ed è veramente la pretesa della mosca cocchiera Renzi, che ho intravisto un'agenzia, dice grazie a noi si è aperto un dibattito sul recovery plan. Io ho la più ferma convinzione, ma è nelle cose, è nelle dichiarazioni, è anche nell'uomo, che questa persona di cui non si può disconoscere il talento politico, l'abilità dialettica, insomma, che questa persona non abbia proprio la benché minima idea di che cosa il cosiddetto recovery plan, o colletto così nell'agenzia, insomma il recovery fund sia. Poverino, non è colpa sua, lui non è che deve saperlo, ma sfugge sempre a tutti un dettaglio, che pure è un dettaglio assolutamente evidente. Al netto del fatto che nessuno ricorda mai che non sono regali ma prestiti, per la maggior parte, perché sapete che il cosiddetto fondo perduto del recovery fund, diciamo in senso stretto, cioè della Recovery and Resilience Facility, è stimato a 65 miliardi, ma questa stima, attenzione, sapete che sarà soggetta a una revisione alla fine del 2022, quindi insomma, però diciamo che è dell'ordine dei 65 miliardi per il recovery in senso stretto, e diventa di un'ottantina di miliardi se si considera tutto un GEO, perché dentro entrerebbero degli altri cosiddetti fondi perduti, quelli del programma React EU, per un totale teorico di 80 miliardi di euro. Quindi dai 209 arrivare a 80, significa che tu ne stai tenendo fuori a grandi linee 129, 130, i 130 sono prestiti, e qual è il punto dell'essere prestiti? È che quei 130 vanno iscritti nel debito pubblico, tant'è che al MEF, questo ve lo diciamo si sa, d'accordo? Lo dicono le pareti, ma ovviamente non il ministro, non ne vogliono sapere mezza di prendere 130 miliardi di prestiti, più esattamente 129 dei 209 teorici, non ne vogliono sapere mezza, d'accordo? Ne vogliono prendere circa un po' più di un terzo, una cinquantina, il che significa che con 50 miliardi di prestiti, invece di 129, e 80 di fondo perduto, si arriverebbe a un volume complessivo di risorse che entrano pari a 80 più 50, 130. I loro conti li stanno facendo su 130, ma questo sicuramente a Renzi non gliel'hanno detto, se gliel'hanno detto non l'ha capito, se l'ha capito non lo vuole dire. Quindi questo 209 di cui tutti si riempiono la bocca non esiste, non c'è, non esiste, non è neanche il numero su cui il governo fa i conti. Poi, come sapete, di questi miliardi, che non importa a questo punto quanto siano, nessuno di questi miliardi è gratis. Allora, abbiamo la parte di prestiti, che teoricamente potrebbero arrivare al 6,8% del PIL, ma noi come Italia stiamo facendo conto di prenderne forse 50 miliardi, e il prestito per definizione deve essere restituito. E poi c'è la parte di cosiddetto fondo perduto. Ma questo fondo perduto l'Italia ce l'ha già. E certo, e che cosa sono i fondi perduto di cui l'Italia oggi beneficia? Sono i fondi europei. Cioè il fondo perduto di cui si parla non è una novità dal punto di vista concettuale, è semplicemente un potenziamento dell'usuale meccanismo dei fondi comunitari. Sono dei fondi che vengono assegnati al Paese, che li richiede, i cui abitanti, le cui istituzioni, le cui entità interessate le richiedono, partecipando a un bando che è orientato secondo certe priorità politiche stabilite dalla Commissione europea. Cosa cambia in questa logica? In questa logica con il recovery, e quindi con il cosiddetto fondo perduto, cioè con questi 60 miliardi in più di fondi europei in 7 anni, cioè 65 in 7 anni, diciamo un po' meno di 10 miliardi di fondi europei in più in 7 anni. Che cosa cambia? Cambia che, oltre alla condizionalità che è propria di tutti i fondi europei, e che è insita nel fatto che i soldi te li danno se ci fai quello che dicono loro, cioè se la tua richiesta si conforma a un bando che esprime degli obiettivi e quindi degli indirizzi politici, oltre a questo c'è un secondo livello di controllo che è il fatto di essere iscritti nel semestre europeo. Vale a dire che, oltre al fatto di chiederli con un bando a valle, a monte devi, come paese, fare una richiesta complessiva che entra in un determinato piano, che è il piano nazionale di ripresa e resilienza, che viene presentato insieme al progetto nazionale di riforma, che è uno di quei documenti che fanno parte della ritualità del cosiddetto semestre europeo, che è quella struttura, diciamo, concettuale di, in teoria coordinamento, in pratica condizionamento delle politiche nazionali introdotta al tempo del fiscal compact con il six pack, il two pack e tutte quelle cose che qualcuno ricorderà. Una cosa che dal punto di vista del coordinamento non ha funzionato, tant'è che da quando esiste il divario è oggettivo che il divario fra paesi del nord e del sud d'Europa non si è ricomposto, sia i prestiti sia i fondi perduti vanno restituiti e sia i prestiti sia i fondi perduti sono soldi che vengono dati con delle condizioni. Quando io parlo delle condizioni dei prestiti e mi dicono ah ma il tasso di interesse è conveniente, a parte che il tasso di interesse non si sa e non si potrà neanche sapere perché se succede per il recovery quello che sta succedendo per il short cioè che il tasso di interesse è secretato è ovvio che noi non sapremo mai se ci è convenuto o no aderire a questi prestiti. Ma quando si parla di condizione di un prestito non si può banalizzare la cosa come probabilmente farebbe un Renzi qualsiasi o qualsiasi altro esponente di qualsiasi altro contado al tema del tasso di interesse. C'è un tema che è molto più profondo e che emerge in ogni singola tabella che vi fanno vedere in televisione ed è il tema che i soldi vengono dati all'Italia a condizione che l'Italia faccia quello che dice la Commissione europea. Quando il governo viene attaccato perché ha messo solo 9 miliardi sulla sanità questo attacco in realtà è ingiusto perché dovete sapere che il governo pensa di lavorare su un ammontare totale di risorse di circa 130 miliardi. Un miliardo più, un miliardo meno. Ora, voi se avete letto le varie carte che vi metto sul mio canale Telegram, se avete seguito, per esempio è utile in questo senso, lo trovate fra le ultime cose messe sul canale Telegram, il dossier, l'eccellente dossier che i colleghi del contado non hanno letto, messo appunto dal nostro servizio studi che parla del quadro finanziario pluriennale, cioè del bilancio dell'Unione europea con questa sua componente aggiuntiva che è il Recovery Fund che non è nient'altro che appunto un'estensione dei normali fondi europei. Se vi leggete questa roba, voi vedrete con grande semplicità che il 37% delle risorse del Recovery deve essere destinato alla transizione digitale. Quindi siamo al 57% di risorse, arrotondiamo, 60% di risorse, a questo punto, che hanno una destinazione. Resta il 40% che si deve dividere fra altri 4 cosiddetti pilastri, che se tu li dividi a stecca para, come dicono a Roma, 40 diviso 4 fa 10, che è parente di quei 9 miliardi che nelle diapositive che illustrano la macro-allocazione delle risorse da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano che per il momento esiste solo sotto forma di bodiline, guida e di bozze, quindi ancora siamo in una fase molto embrionale, ma insomma è parente di quella roba lì. Il 10% di 130 naturalmente è 13, poi dopo però non è detto che debba essere stecca para per il restante 40%, ma diciamo che gli ordini di grandezza sono quelli, sono un ordine di grandezza anche volendo equi ripartire le risorse se andrebbe vicini a un ordine di grandezza, più o meno. E non perché speranza non è autorevole, perché Conte non vuole bene alla salute degli italiani, no, no, perché con quei soldi l'Europa gli chiede di fare altre cose e perché loro, che sono il governo di uno dei paesi dove l'emergenza sanitaria si è più fatta sentire, non hanno avuto il coraggio o la capacità negoziale di portare l'Europa a allocare questi fondi, per esempio sul tema sanitario, possibilmente svincolandolo dal discorso Covid. Perché se tu vai a dire che vuoi spendere 36 miliardi 36 miliardi sull'emergenza Covid con un governo che sostanzialmente ha dimostrato grossi limiti nella sua capacità di spendita dei fondi effettivamente allocati e capisci bene che vai automaticamente in infrazione del regolamento, per esempio, del mess sanitario. Ma appunto i fondi del recovery in teoria hanno almeno il vantaggio di non avere dei vincoli specifici sull'emergenza Covid. Quindi ben venga questo, però questi fondi vanno restituiti. Cioè che succede ogni anno? Che noi diamo 15 e ci ridanno 10. Che succederà quest'anno? La stessa cosa, solo che gli ordini di grandezza saranno leggermente più grandi, ma il netto alla fine saranno 5, meno 5, meno 2, meno 1. Saremo sempre contribuenti netti. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Dov'è la grande opportunità? Io lo dico anche agli imprenditori, soprattutto agli imprenditori. Forse non avete capito che questo è un prestito e forse non avete capito che dovrete restituirlo voi. Cioè, se fra chi mi ascolta c'è qualcuno che paga le tasse per qualche motivo, perché ha un reddito o perché ha una casa, che questo governo continua a considerare colpevolmente come un cespite da attaccare, perché vogliono distruggere il nostro stile di vita, perché vogliono sradicarci, perché l'idea di focolare domestico, l'idea di famiglia, sono idee nemiche alla loro visione dell'uomo, che deve essere un uomo atomizzato, un uomo incapace di trovare un luogo di resistenza, di resistenza morale all'oppressione del progetto distopico che queste persone hanno in mente. Ecco, se mi ascolta qualcuno che paga le tasse, perché magari è una partita IVA, perché è un imprenditore, ma anche perché è un dipendente, questo discorso riguarda voi, e ci sono tanti partiti in Parlamento, quattro di essi, che sono i 5 Stelle, il PD, Italia Viva e l'EU, pensano in questo momento solo a come spartirsi i soldi che stanno prendendo in prestito, d'accordo? Nessuno pensa a come voi dovrete ripagarli, e li ripagherete con delle imposte, e li ripagherete con delle imposte, perché questi prestiti, a differenza dei normali prestiti del debito pubblico, non saranno rinnovabili a scadenza, e quindi questo significa che andranno ripagati dal 2026 al 2056. Io nel 2056 avrò 94 anni, va bene? e finirò di ripagare felicemente per i miei figli e insieme ai miei figli, che nel frattempo avranno trovato auspicabilmente un lavoro, essendo arrivati alla soglia della... oltre alla soglia della cinquantina, ecco, auspicabilmente, tutti insieme ripagheremo il debito che questi cialtroni stanno... stanno proponendosi di accumulare, tra l'altro, voglio dire, senza un progetto specifico, cioè qui è proprio viziato il ragionamento, non è che... il ragionamento che parte da ci sono 209 miliardi, sapendo che in realtà vogliono usarne 130, e ora che cosa ci facciamo presto è l'occasione della nostra vita, quando poi vai a vedere che al netto, al paese, resteranno briciole e che queste cose andranno restituite, non può funzionare così un ragionamento economico sano. Un ragionamento economico sano deve partire da di che cosa abbiamo bisogno? Allora, abbiamo bisogno, noi siamo un paese molto diverso, molto diverso, dai nostri principali partner europei, che anche quando, come la Francia, hanno delle rilevanti catene montuose, sono però per lo più delle pianure, e quindi noi abbiamo dei problemi di continuità territoriale enormi da risolvere con infrastrutture, che sono problemi di continuità territoriale continentale e di continuità territoriale più ovvia, perché si vede che in mezzo non c'è la terra ma c'è il mare, con le isole. Abbiamo una serie di problemi di infrastrutture digitali, effettivamente sì, quello esiste, ma per esempio gli obiettivi di abbattimento dell'emissione di anidride carbonica che la Unione Europea ci pone. Sono amici o nemici della nostra industria? A questo qualcuno fuori dalla Lega ci sta pensando? Vogliamo che ci pensino i simpatici decrescisti, quelli per cui tutto ciò che è verde è bello, tranne la Lega che nel frattempo infatti è diventata azzurra proprio per non costringere questi quattro mentecatti a valorizzare positivamente la bandiera di un partito da loro non più amato. ecco, ma io, cioè, veramente mi, anche, cioè, non lo so, a me sembra tutto talmente, boff, non mi pronuncio sui vaccini. Andatevi a studiare la storia della spagnola, andatevi a studiare la storia della spagnola. Poi cercate di spiegarmi con parole semplici, vabbè, andatevi a studiare, cioè, vi dico, andatevi a studiare quella storia, studiatevi, che, diciamo, poi quando quello che stiamo vivendo non sarà più attualità, ma sarà storia, andremo a confrontare queste due storie, sarà interessante, no? Avremo, avremo finalmente dei dati. Ma vogliamo parlare, per esempio, della transizione green e digital, no? Cioè, transizione green, l'abbiamo capito a che cosa serve, no? L'abbiamo capito a che cosa serve, non l'avete capito? Serve a finanziare la transizione dell'automotive tedesco alle automobili elettriche e serve, in qualche modo, a finanziare il decommissioning delle centrali nucleari francesi. Se voi vi andate a vedere, e c'è sempre nel dossier del Senato che vi ho messo su Telegram, ma che potreste tranquillamente trovare con un po' di fatica sul sito del Senato, non perché sia fatto male, ma perché c'è tantissima roba, mentre sul mio Telegram, se lo scorrete linearmente, lo trovate abbastanza facilmente, il dossier sul quadro finanziario pluriannale. C'è una bellissima cartina geografica, c'è una bellissima cartina geografica che fa vedere che cosa succederà. Per esempio, all'interno del Next Generation EU di NGEU, c'è il Just Transition Fund, che cos'è? Il fondo per una transizione giusta. La transizione qual è? È la transizione verde, e questo non è compreso nel pacchetto dell'RRF, della Recovery and Resilience Facility, cioè di quello che nel contado chiamano il Recovery Plan, perché era un pezzo ereditato dal Green New Deal, vi ricordate quella minchiata lì, con cui la von der Leyen, prima che scoppiasse la pandemia, si gloriava di essere la Franklin Delana Roosevelt di questa Europa, diciamo. Va bene? Ho detto Europa, potete sostituirla con parole equivalente. Allora c'è anche una bellissima cartina, perché sapete, la cosiddetta decarbonizzazione, che non si finifica togliere il carbonio, perché, diciamo, vi do una notizia, c'è del carbonio anche dentro di voi, insomma, quando ero giovane io si studiava al classico la chimica organica, e prima si studiava anche quella inorganica, quindi mi sembra di ricordare che, diciamo, dentro di noi ci sia abbastanza carbonio, se lo togliessero, credo che avremmo tutti dei problemi. È la lotta all'anidride carbonica, alle emissioni di anidride carbonica. Allora, se voi vi andate a vedere quella cartina dell'Europa che mette in rosso le zone che riceveranno, diciamo, dove ci sono, le zone che soffriranno di più per le strategie di decarbonizzazione, che quindi ovviamente riceveranno più soldi, più soldi dalla Just Transition, e anche dagli altri obiettivi green, mi sembra di poter supporre, che l'Europa si pone. Voi vedete una cartina dell'Europa bianca con una chiazza rossa corrispondente alla Germania, che quindi si succhierà tutti quei fondi. In Italia c'è uno spottino che corrisponde alla provincia di Taranto, dove posso immaginare qual è il problema che giustamente l'Europa riconosce e per risolvere il quale, cioè quello dell'Ilba, e per risolvere il quale c'è da Raddus Picci, perché tutti i soldi se li prenderanno the others. Cioè, le cose le dicono, le cose le dicono, perché non è, diciamo, esattamente una truffa l'Unione Europea. Le cose sono messe nero su bianco. Perché i colleghi di altri partiti non leggono quello che arriva dall'Europa o perché non lo rileggono nei dossier che il nostro servizio studi con tanta dedizione pubblica. Un po' avrete capito, ne ho parlato tante volte e vi ho fatto vedere, sia i ritmi che i contenuti della vita parlamentare. È una vita tremenda nella quale chi non si dà come ci siamo dati noi nella Lega con i dipartimenti una organizzazione tale per cui ogni parlamentare si prende un dossier, lo segue e poi fa una sintesi per gli altri. Ma i gruppi un po' più disorganizzati o semplicemente meno numerosi, perché qui il numero effettivamente fa una forza. Cioè, in un gruppo non organizzato o non numeroso, un collega che magari sta in due commissioni dovrebbe digerire una quantità di carta dell'ordine di parecchie decine di chili a settimana. È del tutto evidente che non può farcela. Però, 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 quando si va in giro a blaterare di recovery plan e di noi vi abbiamo spiegato il recovery plan, andatevelo a leggere, Dio santo, il dossier che ha fatto il Senato. Perché vedete, qui mi rendo conto che dal punto di vista delle tecniche di comunicazione, no? È del tutto evidente che sia in teoria auspicabile presentarsi con messaggi positivi. Se parte il frame della pioggia di miliardi e tu dici che quei miliardi tecnicamente non ci sono in diversi sensi, ma soprattutto nel senso principale che è quello che sono un prestito, te li danno e devi restituirli, quindi è importantissimo partire da cosa farci, d'accordo? Da cosa farci e soprattutto da come altrimenti potresti trovarli questi soldi, perché magari salta fuori che potresti trovarli a condizioni meno pericolose per il paese, a partire dal fatto che potresti trovarli per farci quello che vuoi tu e non per farci quello che vogliono loro, d'accordo? Ecco, quando si parla di questi fondi che appunto se voi girate per strada, fate questo esperimento di psicologia sociale, io sono convinto che con il martellamento che subiscono dai media molti nostri concittadini sono convinti che l'anno prossimo arriveranno 209 miliardi, ma si sono fatti convincere da quell'imbonitore da fiera paesana che abbiamo come presidente del Consiglio che lui avrebbe messo 400 miliardi sul tavolo dell'economia italiana quando invece ha semplicemente prestato senza coprirle in legge di bilancio delle garanzie su 400 miliardi che le banche avrebbero dovuto erogare ma non hanno erogato perché di fatto abbiamo avuto un erogato di circa 100 miliardi di cui più della metà è andato a coprire prestiti già esistenti e quindi le banche hanno fatto un'operazione di sostituzione di prestiti diciamo meno garantiti con prestiti interamente assistiti da garanzia statale cioè prestiti tanto per essere chiari che anche quelli rimborserete voi se le aziende falliscono e per esempio Massimo Garavaglia il gruppo della Lega alla bilancio Camera ha fatto un'operazione fondamentale che questi non volevano fare per evitare che questi soldi ce li metteste voi cioè che foste voi a ripagare con le vostre tasse il debito che lo Stato farebbe per rifondere le banche perché la banca fa un prestito se l'azienda fallisce lo Stato ci deve mettere la garanzia e lo Stato i soldi da chi li prende visto che è privo di sovranità monetaria li prende da voi d'accordo? Bene allora perlomeno in bilancio Camera sono riusciti a stabilire che la restituzione dei prestiti garantiti è estesa da 6 a 15 anni capirai che con una relativizzazione più lunga c'è il caso che più prestiti vengano restituiti quindi meno garanzie vengano escusse e quindi voi paghiate meno tasse ma lo hanno fatto loro? No! Gli abbiamo chiesto a noi e non volevano farlo perché? Perché l'Europa era contraria cioè sempre lì si va a parare sempre lì allora torno dagli amici imprenditori scusate eh io non voglio anche se temo che dovrò farlo io non voglio in ogni mio intervento in aula fare la lista di tutte le cose che noi abbiamo detto qualche volta 10 anni prima degli altri 15 anni prima degli altri 20 anni prima degli altri c'è uno che ha detto ma anche di più adesso se vi dovessi dire ho la vaga sensazione che sia successo 23 anni fa che qualcuno abbia detto che la finanziaria sarebbe diventato un fax mandato da Bruxelles allora si chiamava finanziaria la legge di bilancio e diciamo che quando noi abbiamo governato l'esperienza è stata questa no? quindi voglio dire caro imprenditore ma se tu ti spaventi perché uno ti dice la verità un po' prima beh allora amico mio nella mia visione liberale del mondo sinceramente nella mia visione liberale del mondo sopravvive perché merita di sopravvivere l'imprenditore che ha l'intelligenza di capire chi gli parla con onestà e se non vogliamo entrare nell'ambito delle valutazioni morali perché l'onestà è una valutazione morale chi ha la pazienza di fare tre quattro verifiche per vedere chi ha detto prima che cosa sarebbe successo dopo allora te lo dico il PD vi ha sempre fattualmente mentito nel senso che magari loro in buona fede erano convinti che sarebbe successa una certa cosa che era il contrario di quello che dicevamo noi e poi è sempre successo quello che dicevamo noi allora se adesso vi diciamo che non è dal recovery che vi dovete aspettare un grande impulso per questa economia e se vi diciamo che l'unico effetto benefico del recovery sarà che siccome i politici cialtroni sono catturati dalla loro narrazione menzognera e veramente loro pensano che quello che vi raccontano dei 209 miliardi che arrivano sia vero l'unico vantaggio che potrete avere dal recovery e che prigionieri delle loro menzogne questi quattro cialtroni litigano fra se stessi fino a esplodere e noi ci prenderemo qualche scheggia selezionandola accuratamente e andremo a governare il paese in nome del buonsenso che non è subalternità non è decidere a quale formula politica decotta decotta qui esiste in Italia a un partito popolare e decotta lì esiste in Europa un partito popolare aderire questa non è diciamo la ragionevolezza questa è subalternità la subalternità e non si risolvono i problemi di un paese negando rappresentanza politica ai tanti cittadini che hanno espresso un desiderio di cambiamento non li si risolvono li si rinviano cioè ci si comporta esattamente come si stanno comportando gli altri d'accordo noi siamo pronti a prendere il testimone e questo lo abbiamo dimostrato anche nel modo in cui siamo riusciti a gestire ristori e legge di bilancio mettendoci dentro delle cose che avevano un senso adesso diciamo così alla luce di tutto questo mi avvio a concludere come direbbe un politico di sinistra e voglio dire che è veramente divertente che un politico di cui ricordiamo i noti tweet in realtà intestati all'epoca al suo partito noi tutto quello che abbiamo fatto in Europa non l'abbiamo fatto perché era nell'interesse dell'Italia ma nell'interesse dell'Europa cioè un politico che non è in grado di capire che non puoi fare il bene del tutto facendo il male delle parti d'accordo? ecco un politico che non è in grado di capire questo cosa volete pensare povera anima santa e innocente che possa capire delle tabelle noiose del linguaggio fastidiosissimo scatena sempre un'allergia dei documenti lunghissimi che vengono da Bruxelles lui non solo non se li studia e devo dire che in quanto leader politico non è in fondo compito suo studiarseli ma perché un leader politico deve fare altre cose un leader politico deve dare una visione deve confrontarsi con gli altri leader deve dare un senso alla struttura ma il poverino che ha fatto l'operazione di palazzo come risultato di questa operazione di palazzo ha dei bravi colleghi che gli sono andati dietro ma ma appunto non solo le cose non se le legge lui che in quanto leader ne può anche farne a meno ma non c'è neanche le legge per lui è questo il problema capite mentre voi sapete che ci sono altri leader che hanno per leggere queste carte le persone che in Italia hanno fatto il dibattito sull'Europa le persone che hanno anticipato di anni di anni gli inevitabili risultati delle politiche sbagliate che il PD ha portato a termine mentre con totale inconsapevolezza e subalternità andava dietro alle indicazioni di paesi che lavoravano nell'interesse loro non certo nell'interesse vostro ecco questo è il quadro non è un altro mi sembra abbastanza mi sembra abbastanza semplice quindi è divertente la pretesa di adesso arrivo io che ti spiego cos'è il recovery non sa neanche che è un prestito continuo a dire che è un regalo io amici cari cioè la differenza fra un prestito e un regalo ecco io vorrei dire insomma non credo che la sappia abbiamo abbiamo di fronte a noi una situazione poi sì si può dire che il Gualtieri è incompetente ma è proprio tutto quel milieu di persone che tendono a sopravvalutare se stesse per me va benissimo perché dai miei nemici io preferisco essere sottovalutato spero altrettanto di voi buonanotte